Che noia stare qui. Tutte le indagini sono noiose, ma se scarti le parti noiose e scrivi il resto, ottieni un bestseller. Attento! Accidenti, era in casa. Dobbiamo andarcene da qui. Io passo dal retro. Pitellus. Sì, questo non sta con il mio luce, è tutto qui. Ah! Peter, Peter, presto, si alzi, dobbiamo andarci, quello, l'assassino, quello, quello ha un'ascia, deve essere, deve essere ancora in casa, andiamo, presto. Ah, la mia testa. Ma cosa le è successo? Non lo so, ho sentito rumore alle spalle e poi... Hai visto l'assassino? Si era spenta la luce, non me lo ricordo. Era alto, basso, come? Ma non lo so, io non sono riuscito a vedere niente, a parte l'ascia. L'assassino, Cristiano lo doveva conoscere per forza, ha detto che è stato lui, ha detto che li aveva uccise tutte. E poi, e poi l'ho ammazzato. Tutto quel sangue.